Ok, diamo un'occhiata a come si mettono le viti da ghiaccio. Si impugna così nel palmo, si mette in un'angolazione rispetto al ghiaccio di 90 gradi, adesso qua non si capisce questo è un ghiaccio appoggiato, poi premendo e tenendo la vite vicino al bacino in modo da essere più efficace nella pressione, facciamo due avanti e indietro con la presa, con la fresa. Una volta che la fresa rimane lì, senza cambiare l'inclinazione alla vite, continuo ad avvitare premendo senza ancora tirare fuori la leva della manovella. Una volta che è infilata per qualche centimetro e la sentiamo solida e non spoccherà più i bordi, possiamo tirare fuori la leva e avvitare. Se vedete la carota che esce continua vuol dire che è il ghiaccio. è senza bolle e quindi è solido.